buonasera ci troviamo questa sera per una terza intervista con franco fracassi credo che sia la nostra terza giusto franco giustissimo esatto la prima è stata il tuo libro protocollo contagio dove avevi aperto l'argomento dell'origine del maledetto virus e l'occasione di oggi invece è la chiusura di questa indagine che hai fatto con il libro che si chiama i misteri di wahan è un libro che mi sembra che abbia scritto a quattro mani giusto esatto con federica ipsaro passione ok possiamo dire che questo libro è la conclusione dell'indagine che ha iniziato con il primo si potremmo dire che insomma è la 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 con questo libro diciamo che chi lo leggerà avrà le idee molto chiare su quello che ci è accaduto io gli ho dato un'occhiata veloce non l'ho letto tutto ti confesso ho letto alcuni capitoli e la chiarezza è sicuramente una cosa che non manca in quel libro ci ho trovato allucinante intanto la quantità di informazioni che già io se io sono noto per essere uno che fa le cose molto molto ben documentate eccetera tu rispetto a me sei dieci volte tanto ci sono mi ricordo anche che l'altra volta qualcuno ti aveva accusato di aver fatto affermazioni come dire senza supporto delle delle fonti in realtà tu di fonti ne avevi messe tanto in quell'altro quanto ce ne sono in questo esattamente no io non parlo ho l'abitudine da quando faccio il giornalista che non parla mai a sproposito e dico qualcosa perché sono certo di quella cosa lì tanto è vero che in questo libro abbiamo messo alla fine io metto sempre alla fine le fonti come come si fa normalmente e le fonti occupano ben 55 pagine del libro anche per questioni di di spazio perché sennò veniva un libro veniva quasi più grosso il libro della parte delle fonti che la parte del libro stesso l'abbiamo messo a corpo 9 per farlo entrare in circa 25 pagine perché sono veramente tantissime abbiamo trovato tantissimo materiale la maggior parte sono fonti prima mano infatti quello che volevo dire appunto tutto ciò che sentiremo da te stasera è tutto documentato nel libro lo dico prima perché siccome ho guardato il libro so che usciranno della formazione affermazioni molto forti e quindi voglio appunto avvisare chi ci ascolta che tutto ciò che dice lui è purtroppo in un certo senso è seriamente documentato allora cominciamo il titolo i misteri di Wuhan ovviamente si incentra sulla questione dell'origine del virus giusto ma da quel che ho capito io qualcosa succede prima ancora di arrivare a Wuhan nel famoso incidente diciamo dei giochi militari eccetera eccetera e cioè se non ti spiace io comincerei da quello che è successo invece nell'estate del 2019 negli Stati Uniti a Fort Detrick nel Maryland dove c'è un laboratorio di massima sicurezza anche lì perché a quel che ho capito io e mi sembra quello che sostiene anche tu molte delle cose che sono successe dopo si possono capire solo se si parte da lì sì perché sono quel che ho scoperto che appare veramente chiaro è che questi due laboratori sono in una sorta di simbiosi cioè lavoravano tutti e due alle stesse cose facevano gli stessi tipo di esperimenti fatti dagli stessi scienziati con gli stessi sistemi di sicurezza e non è un caso che a distanza di tre mesi entrambi i laboratori hanno un incidente molto simile che provoca un danno un po' più piccolo negli Stati Uniti quindi è decisamente più grande in Cina insomma allora Fort Detrick bisogna chiarire Fort Detrick è il più importante laboratorio di ricerca biologica al mondo è un laboratorio militare, è sotto la supervisione del Pentagono e ha una parte all'interno di questo laboratorio che è una parte civile sarebbe il nostro istituto superiore di sanità che si basa lì a Fort Detrick ovvero guidato da un personaggio che molti di voi conosceranno perché si è visto tantissimo in televisione nell'ultimo anno e mezzo che si chiama Anthony Fauci è quello con la faccia da topo che stava sempre accanto a Trump e adesso a Biden ecco scusami è l'unico che è sopravvissuto la transizione dei poteri curiosamente allora questa mescolanza tra civile e militare è fondamentale per capire tutto quello che è accaduto perché tutta la storia che riguarda sia Fort Detrick che Wuhan ha molto a che vedere con le questioni militari e per militare intendo la produzione di armi biologiche ma ha anche molto a che vedere con le questioni civili ovvero la normale ricerca che si fa e in particolare ricerca che fanno le case farmaceutiche riguardo i vaccini perché c'è un motivo molto pratico se si costruisce un'arma c'è bisogno dell'antidoto se no un'arma biologica non ha alcun senso cioè uno sarebbe una sorta di arma suicida più che di un'arma vera e propria e quindi la ricerca sulle armi va di pari passo con la ricerca sui vaccini quella sulle armi ovviamente le fanno le autorità militari quelle sui vaccini le fanno le case farmaceutiche quindi certi vaccini stai dicendo possono nascere come antidoto al prodotto che sta venendo sperimentato a livello militare? esattamente non è un concetto da poco perché di colpo scopri che magari c'è una necessità di lavorare a un certo vaccino che invece prima non si presentava cioè che la natura non avrebbe assolutamente previsto è giusto? è giusto nel caso specifico del SARS-CoV-2 è la cosa più esatta ok quindi diciamo che tutto lo sviluppo che si è fatto intorno alla SARS la SARS è stata riconosciuta c'è un documento del governo australiano un documento ufficiale del governo australiano che risale dal 2010 e il governo australiano dice noi abbiamo sappiamo con certezza che in questo momento c'è un'arma biologica che ha la priorità rispetto a tutte quante le altre perché è quella ritenuta più efficace di tutte è un'arma biologica di classe A ed è l'arma alla SARS e tutti gli eserciti del mondo le forze armali del mondo che posseggono arsenali biologici che è preciso sono vietati dal 1926 dalla Convenzione di Ginevra del 1926 sono 95 anni che sono vietate sono armi di distruzione di massa abbiamo fatto quasi una guerra anzi senza quasi abbiamo fatto una guerra all'Iraq per delle armi peraltro che non c'erano esistono almeno 15 paesi al mondo che hanno un arsenale biologico e nessuno dice niente ecco fermati fermati questo per esempio è dimostrabile è voce di corridoio no 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 sono cose ufficiali dicono loro stessi i paesi che hanno l'arsenale biologico non lo negano assolutamente pur essendo vietato dalle convenzioni internazionali esattamente un po' come Israele che non ha le bombe atomiche però sappiamo tutti che ne ha più di 200 infatti Israele ha anche le armi biologiche tra l'altro ah ecco è uno di quei 20 quanti sono i paesi? 15 15 dunque cosa succede esattamente nel cosiddetto incidente di Fort Dietrich? allora succede che alla Fort Dietrich già nel 2018 c'era stato un grosso problema perché scusate faccio questa digressione ma quelli che vengono chiamati laboratori di massima sicurezza io li definirei laboratori di massima insicurezza perché c'è un rapporto ufficiale anche qui del governo americano in questo caso che ha analizzato tutti i laboratori di sicurezza negli Stati Uniti di massima sicurezza negli Stati Uniti biologici per vedere quanti incidenti ci sono stati dal 2007 al 2012 quindi nell'arco di 5 anni ci sono stati oltre 1100 incidenti quasi uno anzi più di uno ogni due giorni quindi diciamo che in questi laboratori l'incidente è all'ordine del giorno letteralmente nell'anno precedente stiamo parlando del 2018 a Fort Dietrich c'era stato un grosso problema perché casualmente dei dei tecnici analisti delle acque della zona intorno a Fort Dietrich Fort Dietrich si trova alla periferia nord di Washington avevano erano incappati in acque che erano contaminate con una serie di virus e hanno scoperto successivamente che queste acque provenivano da quel laboratorio e cos'era successo? semplicemente che il tecnico laboratorio si era dimenticato di cambiare il filtro che filtrava diciamo le attività all'interno del laboratorio e le acque che defluivano all'esterno allora questa cosa qui è accaduta l'anno prima c'è stata una ispezione da parte delle autorità specialmente del Pentagono al laboratorio Fort Dietrich da questa ispezione è risultato che quel laboratorio era pieno di falle però in realtà non è stato fatto nulla cioè si aveva scoperto che era un laboratorio con un sacco di problemi non è stato fatto assolutamente nulla l'anno successivo che succede? nel giugno del 2019 improvvisamente nell'area intorno a Fort Dietrich incomincia a svilupparsi una epidemia di una polmonite atipica ovvero i medici non riuscivano a capire che razza di polmonite fosse di questa epidemia ne parlano tutti i giornali locali dell'epoca perché ovviamente non è che c'era nulla da nascondere i giornali raccontano quello che accade improvvisamente si stavano ammalando centinaia migliaia di persone di questa stranissima polmonite e ne incominciano a parlare i giornali locali la cosa diventa così grossa che ne incomincia a parlare anche il New York Times e il Washington Post dopo qualche settimana e siamo a metà di luglio Fort Dietrich viene chiuso letteralmente chiuso e tutte le persone evacuate non c'entra più nessuno là dentro ovviamente una decisione del genere incontra subito delle domande da parte di alcuni parlamentari deputati e senatori del congresso degli Stati Uniti che ufficialmente chiedono al Pentagono per quale motivo era stato chiuso il laboratorio e se aveva qualcosa a che fare con questa strana con questa epidemia di strane polmoniti che circolavano intorno il Pentagono risponde la risposta ufficiale è segreto di Stato quindi è sì la risposta è sì e se fosse Stato no avrebbero detto no nel senso che non esattamente diciamo che ok però scusa viene chiuso per la questione non hanno più detto nulla non hanno più detto nulla il laboratorio è stato chiuso per mesi è stato chiuso per mesi e questa strana epidemia ha portato hanno calcolato questi sono gli statistici hanno calcolato ci sono state nell'area nel 2019 circa 10.000 morti in più rispetto alla media normale cavole quindi non pochi certo e una parte di queste morti sono state negli ospizi negli ospizi che ospitavano in particolar modo i veterani di guerra perché gli ospizi veterani di guerra perché perché i malati di Forditrick andavano a curarsi in un ospedale militare che sta là vicino e i medici che curavano i simulati di Forditrick erano gli stessi che poi andavano negli ospizi dei veterani di guerra quindi è un meccanismo che conosciamo molto bene insomma da questa pandemia il diciamo i i tecnici i medici che entrano dentro che sono entrati dentro gli ospizi senza senza nessun tipo di protezione hanno portato dentro quelle strutture la la malattia e con una conseguente diciamo ecatombe vere e proprie insomma è accaduto in Italia è accaduto in Spagna in tantissimi paesi e anche se non ufficialmente è accaduto nell'area di Washington nell'estate 2019 ok fetti fermo un attimo diciamo di aver stabilito che con grossa probabilità un coronavirus SARS-CoV-2 un non il è uscito da Forditrick ed è andato in giro ha fatto probabilmente questo aumento di morti e probabilmente ha contagiato i veterani della casa di riposo secondo la tua ricerca questo è lo stesso virus che a un certo punto fa il viaggio in qualche modo e arriva in Cina o c'è un episodio analogo che succede a Wuhan nell'autunno dello stesso anno? allora su questo ovviamente non posso avere certezze perché non ci sono prove a riguardo però quello che si sa invece questo si sa con certezza sia a Wuhan che a Forditrick si stava lavorando sui stessi ceppi di virus di che si tratta? allora nel 2012 nel sud della Cina nella zona da cui provengono i famosi pipistrelli portatori di questo coronavirus sono stati i tecnici cinesi hanno isolato nove ceppi di virus SARS e questi nuovi ceppi sono stati portati al laboratorio di Wuhan e sono stati lavorati laggiù che vuol dire lavorati? vuol dire che su questi ceppi loro facevano insieme agli scienziati americani già all'epoca innestavano altri virus per trasformarli quando parlo di armi biologiche parlo esattamente di questo non è un normale virus è un virus trasformato un virus potenziato per poterlo in maniera tale che possa uccidere più persone si possa trasmettere il più velocemente possibile soprattutto si possa trasmettere da essere umano a essere umano perché i ceppi che noi troviamo nei pipistrelli sono ceppi animali e nel caso in cui uno è particolarmente sfigato questo virus magari può infettare un singolo essere umano ma passare diciamo far sì che questo virus che infetta un essere umano possa infettare dall'essere umano un altro essere umano ce ne passano diciamo passano per fare questa operazione alcune migliaia di mutazioni allora dentro i laboratori si fa anche questo cioè si cerca di far sì che i virus siano trasmettibili da essere umano a essere umano e hanno lavorato in particolare su questi nove ceppi uno di questi peraltro è quello di cui si è parlato insomma parecchio l'anno scorso poi la cosa è stata messa tutta quanta a tacere mostrando un video di un vecchio tg leonardo che mostrava quello che chiamava un virus chimera ecco il virus chimera era esattamente uno di questi nove ceppi trasformato scusa franco si prende un virus naturale trovato nel pipistrello lo si porta in laboratorio e si comincia a elaborarlo per potenziarlo per potenziarlo per far sì che questo virus diventi contagioso per gli esseri umani insomma è il più contagioso abbiamo perso un passaggio mi rendevo conto mentre parlavo che ci manca un passaggio cioè il collegamento diretto fra Fort Dietrich e Wuhan esattamente allora loro hanno preso questo virus l'hanno iniziato a lavorare scienziati cinesi e scienziati statunitensi insieme e questa è la parte scusami scusami franco questa è la parte che volevo citare a tuoi sottopunti è scritto nel laboratorio lavoravano molti degli scienziati alcuni militari che lavoravano anche a Fort Dietrich e venivano usati gli stessi protocolli di sicurezza il laboratorio è stato costruito dai francesi quello di Wuhan poi scalzati dagli USA decisione di Trump e di Fauci gli statunitensi lo hanno finanziato fino a luglio 2020 ci hanno inviato i loro migliori scienziati civili militari quindi è strano almeno a un occhio non esperto è strano che i militari americani vanno a lavorare in Cina e questi collaborano come se fossero alleati cioè questa è parte che mi manca di capire è una cosa totalmente che apparentemente non ha senso in senso io mi sono veramente anzi noi io e Federica gli siamo all'ambicchiato il cervello per mesi per cercare di dare un senso a questa cosa perché non aveva né capo né coda perché gli statunitensi devono non solo finanziare un laboratorio cinese devono mandare i loro scienziati e soprattutto perché i cinesi accolgono i militari americani in un loro laboratorio militare voi sapete quanto già sarebbe strano per un altro paese ma in particolare per la Cina che non è amica degli Stati Uniti ed è molto chiusa per quanto riguarda queste cose è una cosa che apparentemente è assurda allora su questa cosa specifica ho cercato di trovare abbiamo cercato di trovare degli appigli su cui iniziare a indagare e abbiamo scoperto che per esempio nel 2014 l'allora vicepresidente Biden era vicepresidente di Obama aveva un figlio che era molto molto intraprendente non solo questo figlio intraprendente ha avuto una serie di affari poco puliti con l'Ucraina in seguito al golpe che ci fu laggiù proprio quell'anno ma improvvisamente Hunter Biden così si chiama il figlio in questione è entrato nel consiglio di amministrazione di una società senza percepire assolutamente nulla di per sé non è una cosa niente di male uno entra in un consiglio di amministrazione è già curioso che entri in un consiglio di amministrazione dove tutti vengono pagati tranne te quindi essendo il figlio del vicepresidente già uno dovrebbe insospettirsi perché questo entra in un consiglio di amministrazione gratuitamente di quale società del laboratorio di Wuhan no 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 di una società cinese di una società americana di una società finanziaria americana ok al che sono andato a vedere che cos'era questa società finanziaria americana e ho scoperto che l'80% del capitale di questa società finanziaria americana è finanziata da da un'azienda cinese quindi abbiamo una società finanziaria americana finanziata da un'azienda cinese molto vicina a Xi Jinping che si chiama? qui entra e il nome non me lo ricordo io per i nomi sono un disastro non è la Eco Health Alliance ho raccontato tutto quanto per economi di dettaglio purtroppo il nome non me lo ricordo allora Biden il figlio di Biden entra come consigliere di amministrazione gratuitamente in questa società e questa società dopo che il figlio di Biden entra nel consiglio di amministrazione inizia a finanziare una serie di operazioni di ricerca anche e anche di operazioni di passaggio di tecnologia militare tra Stati Uniti e Cina nelle due direzioni e questa diciamo la data di entrata del figlio di Biden in questa società è di poco precedente ma proprio di poco sto parlando di qualche giorno precedente ha questa sorta di primo accordo che avviene in maniera di tutto informale tra l'amministrazione statunitense e l'amministrazione americana cioè arrivano a Wuhan Wuhan il laboratorio non era ancora stato inaugurato in via definitiva perché poi viene inaugurato nel 2017 ma il laboratorio di Wuhan è composto di tanti laboratori diversi molti di questi erano già in funzione dove appunto stavano lavorando questi nove ceppi gli americani arrivano proprio qualche giorno dopo l'inizio dell'entrata di Hunter Biden in questo consiglio di amministrazione ovviamente non è che c'è una una registrazione in cui Biden racconta di questa cosa qui però è veramente bizzarra perché appunto lui entra in una consiglia di amministrazione di una società americana finanziaria finanziata dai cinesi molto vicina a dirigenza americana quindi come se fosse un accordo ai massimi vertici vicepresidente con presidente e questa società incomincia a finanziare essendo una società finanziaria e incomincia finanziare questi affari tra aziende tecnologiche americane aziende tecnologiche cinesi per lo scambio di tecnologia però si va oltre perché dal 2014 in poi questa collaborazione tra americane e cinesi è sotto traccia anche perché Obama ufficialmente ha bandito quel tipo di esperimenti quegli esperimenti sono pericolosissimi cioè gli esperimenti che facevano a Wuhan facevano a Ford Dietrich erano esperimenti pericolosissimi certificati dalla maggior parte degli scienziati del mondo perfino l'OMS l'aveva in qualche modo banditi allora questi esperimenti sono essendo messi fuori legge da Obama questo accordo non è un accordo ufficiale vero e proprio nel senso che gli scienziati americani vanno in Cina ma vanno a nome proprio non vanno a nome del governo degli Stati Uniti poi che succede finisce l'Erobama arriva Trump allora Trump anche qui è una questione in cui le famiglie hanno molto a che fare arriva Trump e Trump ha una figlia Ivanka che ha un'industria che produce borse cose di questo genere qui insomma le vende sul mercato americano e escono delle notizie subito dopo che lui diventava presidente di accordi che la sua azienda ha fatto improvvisamente lei le produceva in Cina però le produceva da aziende qualsiasi da quando lui diventa presidente le le borse prodotte in Cina vengono prodotte non da fabbriche qualsiasi anche lì da fabbriche che sono i cui dirigenti sono parenti della nomenclatura del partito comunista cinese quindi già si alza di livello ma non è tanto questo è più che altro il marito di Ivanka Jared Kushner che è un personaggio stranissimo in realtà tutta la famiglia Kushner è una famiglia molto strana grandi finanziatori del partito democratico però poi lui era il il genero di di un di un presidente ultra repubblicano in un certo senso allora la famiglia Kushner nel momento in cui diventa Trump presidente ha un miliardo a un'azienda con un miliardo e quattrocento milioni di debiti è sull'orlo del collasso che succede improvvisamente questo debito viene totalmente ripianato e viene ripianato da chi? da un'azienda cinese perché i Kushner incominciano a fare affari con i cinesi allora l'azienda di Kushner e le aziende cinesi incominciano a fare affari nel senso che incominciano perfino a scambiarsi armi cioè l'azienda di Kushner incomincia a finanziare fabbriche di armi in Cina in cambio del ripianamento di questa cosa e Kushner viene nominato da Trump consigliere non ufficiale anche se consigliere per la Casa Bianca per la politica estera in alcuni paesi tra cui Israele Medio Oriente e così via ma anche la Cina si mi ricordo organizza il primo viaggio di Trump all'estero e questo primo viaggio di Trump all'estero si svolge nel novembre inizio novembre del 2017 e al termine del viaggio c'è una riunione l'ultimo giorno non ci sono cose ufficiali si fa una riunione informale a cui partecipano Trump Xi Jinping Jared Kushner i vertici militari statunitensi i vertici militari cinesi quello che si è detto in questa riunione non si sa quello che si sa è che 20 giorni dopo esattamente 20 giorni dopo Trump attraverso Fauci toglie il bando degli esperimenti di guadagno di funzione cioè questi esperimenti pericolosissimi sui coronavirus tra le varie cose e decide ufficialmente in questo caso di finanziare i laboratori di Wuhan quindi adesso da quando tolgono il bando può farlo ufficialmente che poi scusami se non sbaglio è quello che vuole però ufficialmente decide di finanziare i laboratori di Wuhan cioè i laboratori di Wuhan è finanziato dal Pentagono cioè sono soldi ufficiali del Ministero della Difesa degli Stati Uniti dal Dipartimento di Stato sono soldi ufficiali del Dipartimento di Stato sono messi a bilancio quei soldi scusa Franco sono soldi di governo degli Stati Uniti che finanziano direttamente i laboratori di Wuhan e a quel punto e siamo al dicembre 2017 volano in Cina gli scienziati militari americani e incomincia un vero e proprio scambio diretto nel senso che gli scienziati si ospitano a vicenda si scambiano le informazioni fanno le ricerche insieme si spediscono anche i ceppi di virus da un laboratorio all'altro in questo senso qui sono molto legati tra di loro perché stavano studiando gli stessi ceppi di virus di cui uno si conosce che è quello diciamo raccontato da quel servizio di Leonardo che è un virus chimera degli altri otto una volta scoppiata la pandemia si perdono le tracce perché i cinesi fanno sparire letteralmente dal loro sito tutti tutte le informazioni su questi otto ceppi di virus allora non avendo diciamo queste informazioni se uno le va a cercare adesso non le trova più però bisogna facendo le ricerche a ritroso si hanno alcune informazioni su questi otto ceppi di virus e chi ci ha lavorato ha raccontato che questi otto ceppi di virus sono molto 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 simili al SARS-CoV-2 alcuni di questi scienziati sono pronti a giurare che uno di questi fosse il SARS-CoV-2 ok fermati un attimo perché io mi sono un attimo perso nel giallo internazionale allora l'aver tolto il bando gli esperimenti si chiamano G-O-F in italiano in inglese Game of Function uguale Game of Function e che sono questi quelli pericolosissimi su cui Trump toglie il bando io questo non lo sapevo a questo punto mi rimane sempre però una domanda perché andare là a giocare con i virus e usare i cinesi quando potresti farlo in casa tua perché i virus ce l'hanno i cinesi e la SARS ce l'hanno i cinesi sono loro che hanno tirato fuori i nuovi ceppi di virus la maggiore esperta ai SARS al mondo è Xi Jin Lee che è la direttrice del laboratorio Wuhan e quindi se uno vuole giocare con i coronavirus deve rivolgersi ai cinesi ho capito a questo punto gioca che ti gioca arriviamo al momento chiave cioè incidente secondo te secondo incidente quindi dopo quello di Ford Dietrich o dispersione volontaria ci sono prove in un senso oppure nell'altro no dispersione volontaria non c'è nessuna prova di incidente c'è la certezza perché questa questo episodio accade a inizio ottobre del 2019 quindi circa tre mesi dopo l'incidente di Ford Dietrich e che succede? succede che improvvisamente il laboratorio di Wuhan viene chiuso anche quello viene sì viene chiuso ma vengono sbattuti fuori tutti cioè non c'è ne più di due ci sono sono noti oramai anche i tracciati dei cellulari all'interno di quel laboratorio e mentre fino a un certo punto si vedono tantissimi tracciati cellulari che sono tutti quanti gli scienziati non so gli addetti alle pulizie chiunque stesse là dentro improvvisamente non c'è più nessun segnale spariscono tutti i segnali dei cellulari da dentro il laboratorio di Wuhan non c'è più nessuno nemmeno il guardiano rimane dentro quel laboratorio e tutta l'area intorno al laboratorio viene refintata vengono messi i posti di blocco ovunque tutto questo avviene qualche giorno prima dell'inizio dei giochi mondiali militari a Wuhan il famoso episodio di Tagliarol il nostro il nostro spadaccino che ha raccontato appunto di adesso si è ammalato appena arrivato no? sì esattamente diciamo che da lì in poi la sappiamo relativamente insomma da lì in poi possiamo averla capita in tutto questo chi è la Eco Health Alliance e che cosa fa perché tu la nomini spessissimo nel tuo libro sì allora anche qui una promessa gli statunitensi da diciamo fine anni 80 in poi hanno iniziato a privatizzare qualsiasi cosa perfino la guerra insomma oramai le guerre le fanno più con i mercenari o i contactos come li chiamano che con i soldati veri e propri la stessa cosa hanno iniziato a fare con la ricerca militare allora in sostanza loro mettono i fondi cioè il governo degli Stati Uniti e in particolare il Pentagono mette i fondi per mettere su o costruire dei propri laboratori oppure per finanziare un qualsiasi laboratorio e affida la gestione di questo laboratorio non alle proprie autorità militari o civili ma le affida a una un'entità privata la più importante di queste si chiama Eco Health Alliance è una fondazione e questa fondazione ha dietro di sé come ufficialmente alcuni studi legali che tutti quanti riportano la CIA ha dietro di sé alcune grandi case farmaceutiche tutte queste case farmaceutiche si occupano di vaccini e non è un caso come ho spiegato prima e poi ha dietro di sé i tre grandi colossi della finanza forse le tre società più grandi del mondo sono BlackRock Vanguard e Seed Street quindi i tre colossi Wall Street che tra le varie cose sono queste tre aziende sono i principali azionisti di tutte le aziende di Big Pharma cioè tutte le società farmaceutiche questa è Eco Health Alliance allora Eco Health Alliance lavora facendo esclusivamente questi esperimenti di guadagno di funzione quindi lavora esclusivamente facendo questi esperimenti pericolosi e ovviamente non li può fare nei paesi diciamo civili in Europa queste cose qui non si possono fare come non si possono fare in tantissimi altri paesi si possono fare in alcuni paesi tra cui la Cina e adesso dal 2017 si possono fare anche negli Stati Uniti ma solo su coronavirus come se fosse un sollievo insomma ecco e il diciamo il direttore di questa il direttore scientifico di questa Eco Health Alliance è anche un eminentissimo scienziato dell'OMS non a caso l'OMS quando qualche mese fa manda la delegazione di propri scienziati in Cina per fare questa specie di finta investigazione che hanno fatto uno dei membri di questa delegazione è esattamente questo Peter Daszak che era al che è al comando di Eco Health Alliance in sostanza hanno mandato la persona a indagare su se stesso è evidente che poi sono tornati esattamente con nulla di fatto infatti mi aveva molto stupito tutto questo can can andiamo a vedere andiamo a scoprire tutto come se i cinesi ti lasciassero guardare dove vuoi dove vuoi tu e poi venire fuori dicendo non abbiamo concluso niente di di soli niente di di valido mi è sembrato veramente molto strano evidentemente erano erano tutta una sceneggiata come dici tu è come la commissione Warren per il caso Kennedy che indaga per sei mesi però non trova niente la commissione 11 settembre che indaga per sei mesi però non trova niente eccetera esattamente senti un'altra cosa il scusa un attimo è che mi sono preso un po' di note qua Anthony Fauci perché in tutto questo questo pistolino che gira sempre dappertutto che è dagli anni 80 che gira cosa c'entra esattamente perché ultimamente Tucker Carlson il conduttore della Fox News l'ho accusato pubblicamente negli Stati Uniti di avere di essere in qualche modo coinvolto con i fatti di Wuhan come dire ecco spieghiamolo meglio il suo ruolo perché lui è la persona che ha presieduto la riunione alla Casa Bianca che ha deciso di finanziare il laboratorio di Wuhan quindi lui è colui che non so se ha firmato la cosa non so se questa cosa viene firmata dal presidente oppure da lui in quanto direttore dell'Istituto di Superiore di Sanità americano ma lui è l'uomo che ha da parte governativa americana promosso tutta quanta questa operazione quindi lui ha un ruolo fondamentale ma non solo per questo Fauci è un vero fissato dei guadagni di funzione e lui sostiene che i guadagni di funzione vanno fatti perché bisogna capire una cosa tutti gli scienziati perché poi io per esempio ho messo un intero capitolo dove racconto questi scienziati perché non ci sono solamente le grandi cose di geopolitica ma ci sono proprio gli scienziati che materialmente fanno queste ricerche allora tutti quanti questi scienziati sono dei personaggi molto particolari se si vanno a leggere i loro scritti o ad ascoltare o a leggere le interviste che rilasciano tutti quanti danno la stessa impressione ovvero di essere delle persone che mettono la scienza prima di ogni altra cosa prima della vita umana degli esseri umani c'è il valore della scienza un po' come non so in un romanzo in un film potrebbe essere il classico scienziato pazzo cioè la ricerca scientifica è sempre davanti a tutto non importa quanto costerà questa ricerca scientifica questo è la loro il loro punto di partenza e se si parte da questo presupposto ovviamente tu puoi fare qualsiasi tipo di ricerca anche mettendo a rischio l'intero genere umano perché l'importante è andare avanti con la ricerca scientifica il personaggio Fauci è esattamente questo se non oltre se non oltre a questo anche il fatto che evidentemente uno che ha le mani in pasta dappertutto perché ti trovi la stessa persona che adesso va in televisione che andava l'anno scorso andava in televisione costantemente a dirci cosa dobbiamo fare per proteggerci da questo virus è la stessa persona che sembra aver avuto un ruolo nella nascita di questo virus esattamente quindi diciamo che non parlava a sproposito in questo potrei dire a questo punto mi veniva una domanda tu dicevi all'inizio che i laboratori hanno un percorso parallelo la parte militare sviluppa gli esperimenti di GOF di guadagno come si chiamano scusami guadagno di funzione guadagno di funzione gain of function mentre la parte civile sviluppa eventuali vaccini e commenti è possibile a questo punto che avessero già sviluppato in anticipo il vaccino per questo SARS e questo spiegherebbe perché sono riusciti a farlo così in fretta allora ti dico che una delle delle principali come ho detto prima Eco Health Alliance è una serie di case farmaceutiche al proprio interno e la principale la più nota di queste qui è la Johnson & Johnson che lavorava a Wuhan ma quante coincidenze però ragazzi veramente quindi è possibile che tutti i vaccini che sono venuti fuori cioè hanno seguito tutti un percorso parallelo o possono venire tutti comunque da questo lavoro fatto prima dell'ombra dalla sezione civile dei laboratori militari ovviamente non posso non posso perlo con certezza vado qui vado diciamo a logica le dietro Eco Health Alliance come ho detto ci sono questi tre colossi finanziari che sono proprietari di tutte le principali case farmaceutiche compresa AstraZeneca compreso Moderna compreso Pfizer quindi non escludo che in qualche modo perché se no Eco Health Alliance scusate BlackRock Vanguard S-Suite devono in qualche modo supportare la Eco Health Alliance non avrebbe senso altrimenti oltre a essere anche proprietari di Johnson & Johnson ovviamente questa cosa qui non avrebbe senso un senso ce l'avrebbe se tu vuoi creare una sorta di network all'interno delle tue case farmaceutiche che puoi giocartela come meglio credi insomma anche perché non è solo questi esperimenti sul coronavirus non si svolgerono solamente a Wuhan nel senso Wuhan è il centro di questa cosa ma gli americani hanno creato una rete vera e propria in tutto il mondo sì infatti c'è un capitolo che riguarda la collocazione geografica dei loro laboratori esattamente loro a partire dalla presidenza Bush quindi stiamo parlando intorno a 2006 viene dato un ordine ufficialmente per fare la lotta al terrorismo io vorrei capire che c'entrano i laboratori biologici con la lotta al terrorismo ma questa è veramente un'altra storia rientra tutto nella lotta al terrorismo più o meno allora ufficialmente per la lotta al terrorismo vengono viene dato questo ordine e vengono costruiti in tutto il mondo oltre 200 laboratori militari americani cosa? dico quei soldi americani americani vengono costruiti nel corso del tempo insomma e se volete vi do al volo perché fa veramente impressione io poi non me lo ricordo mai a memoria perché è una lista lunghissima i paesi perché non di tutti questi laboratori si conosce l'ubicazione si sa ufficialmente sono più di 200 di alcuni si sa esattamente dove si trovano di altri no quindi potrebbero essere ovunque allora i luoghi dove i paesi in cui si conoscono insomma l'esistenza di questi laboratori sono Senegal Guinea Sierra Leone Liberia Costa d'Avorio Uganda Camerun Kenya Tanzania Ucraina Georgia Armenia Azerbaijan Giordania Iraq Afghanistan Pakistan Kazakhstan Uzbekistan Tajikistan Kyrgyzistan Laos Vietnam Thailandia Cambogia Filippine Australia Canada e ovviamente gli Stati Uniti scusa fra l'altro nel gruppo centrale hai nominato tutti i paesi che cercano alla Russia se non sbaglio esattamente hanno fatto un vero proprio cordone sanitario è il caso intorno alla Russia in Ucraina di laboratori ne sono stati costruiti ben 16 16 laboratori militari ucraini questo dà anche l'idea di quello che è l'Ucraina oggi ovviamente paese di grande indipendenza insomma se gli Stati Uniti d'America possono costruire 16 laboratori imbarba alla Costituzione ucraina perché ci sono diversi parlamentari ucraini che hanno portato la questione alla Corte Costituzionale Ucraina dicendo che la presenza di questi laboratori americani viola la Costituzione ucraina anche perché era segreta l'hanno scoperto quasi per caso l'hanno scoperto perché sono messi lungo il confine improvvisamente nel 2018 lungo il confine tra Ucraina e Russia è scoppiata un'epidemia stranissima pure lì insomma una strana polmonite che nessuno riusciva a capire e sono andati ovviamente hanno fatto anche delle ricerche come si fa quando ci sono delle epidemie insomma per capire le motivazioni e si è scoperto che tutti diciamo i piccoli focolai che sono sorti sono messi come una sorta di cerchio geometrico intorno a un laboratorio militare statunitense è come se avessero veramente fatto un cordone un cordone intorno alla Russia in Georgia hanno fatto anche di peggio perché in Georgia anche qui c'è una denuncia ufficiale per chiedere l'apertura di una commissione di inchiesta del Parlamento georgiano perché nel laboratorio che si trova in Georgia nella denuncia si dice espressamente che sono stati usati 71 persone come cavie umane per esperimenti biologici e sono morte queste persone in più pare che in questo laboratorio georgiano questi parlamentari sono entrati in possesso di documenti documenti ufficiali di questo laboratorio e in questi documenti si parla esplicitamente di una ricerca approfondita che fanno in questo laboratorio ma non solo sul genetica del popolo russo per secondo alcuni scienziati perché ovviamente hanno fatto vedere queste cose degli scienziati perché questi parlamentari ci capivano poco come ci capisco poco anche io e secondo gli scienziati è diciamo se si vuole produrre un'arma biologica conosce la genetica di un popolo che si vuole colpire e avvantaggia molto la cosa Franco devo dire una cosa io ormai raramente resto diciamo scioccato da certi livelli perché ormai mi sto abituando più o meno a tutto ma oggi sono veramente scioccato da questa nuova realtà che ancora non avevo immaginato cioè praticamente la vera guerra oggi non è neanche più quella con le armi militari quella è solamente una facciata è diciamo l'espressione fisica di una guerra che sta avvenendo ad altro livello allora diciamo che le armi nucleari sono oramai una cosa così giusto per di folcloristica perché ovviamente sono una cosa pericolosissima ma non sono mai state usate in 75 anni ci sarà un motivo perché se tu lanci una bomba atomica contro qualcuno se immediatamente diventi il paria del mondo se non l'oggetto di altre bomba atomiche che ti arrivano addosso quindi non è una cosa pratica usare un'arma nucleare andando molto sul cinico usare una una bomba biologica chi se ne accorge cioè è sufficiente che tu versi una fialetta in un fiume è sufficiente non lo so con un ventilatore spruzzare nell'aria a qualche cosa non se ne accorgerà mai nessuno perché è una malattia vai a capire da dove arriva la malattia è certo infatti non riusciva a dimostrare niente in questo caso esattamente ma la cosa che mi ha fatto io devo dire sia io che Federica facendo questo libro abbiamo per alcune cose non ci abbiamo proprio dormito la notte perché siamo saltati sulla sedia quando abbiamo scoperto alcune cose allora noi siamo andati per tigna a vedere dove si sono svolti diciamo dove sono accadute le le epidemie le principali epidemie in giro per il mondo negli ultimi 10-12 anni e proprio geograficamente abbiamo messo su una carta geografica i puntini dove c'erano questi focolai e abbiamo scoperto che vicino a questi focolai tutti ci sono dei laboratori militari statunitensi di questo genere qui dove fanno i gain on function faccio un esempio Ebola in in Africa è stata una cosa recente insomma qualche anno fa c'è stata questa epidemia di Ebola se si va a vedere lì c'erano i gain on function e cosa studiano perché non è che studiano sempre la SARS in quel laboratorio lì studiano il potenziamento di Ebola come arma la MERS la stessa cosa NIPA potrei continuare cioè è impressionante è impressionante ovviamente questo non non dà la certezza che siano gli untori del mondo però insomma una volta due volte tre volte quattro volte cinque volte se è sempre così qualche domanda te la fai ma anche volendo essere generosi e dire che siano tutti incidenti sono comunque la barra di scatto diciamo che io sono sempre una persona ottimista io credo che siano tutti quanti incidenti però il problema è che perché gli esperimenti guadagni di funzione sono contestati da gran parte degli scienziati la principale contestazione non è non sono utili la principale contestazione è è pericoloso perché è all'ordine del giorno vi ho citato prima un dato ufficiale nei laboratori di massima sicurezza c'è un incidente quasi ogni due giorni allora se tu hai 200 laboratori così sparsi per il mondo no? e c'hai un incidente al giorno in giro per il mondo forse anche di più magari la maggior parte sono incidenti cretini ma come abbiamo visto ne basta uno non è che ce ne vogliono tanti ne basta uno per mettere in ginocchio l'intero genere umano e questa è la follia cioè la follia di queste persone che credono di essere Dio che giocano a essere Dio è senza limiti e quello che è successo non li ha fermati perché non è che nessuno nessuno di questi laboratori è stato smantellato l'intera operazione non è stata smantellata sta ancora lì gli scienziati stanno ancora lì stanno ancora lì e nessuno si sogna di fare nulla tutto rimasto come prima e questa è la cosa che mi spaventa particolarmente magari non succederà nulla però insomma diciamo che il pensiero che tra una settimana un mese un anno o tre anni cinque anni possa risuccedere di nuovo magari ancora peggio viene direi di sì anche perché tu sei molto appunto tu sei buono come dire per cui vuoi credere alla buona fede di certe persone io sono un pochino più malizioso e direi che una volta su due secondo me gli scappa per vedere un po' l'effetto che fa perché poi hanno anche bisogno di fare i test questa gente qui è un po' come il famoso primissimo test storico quello famoso delle scie chimiche del 99 della città canadese si chiamava Ispaniola mi sembra dove fecero un primo test delle scie chimiche su un paesino particolare per vedere l'effetto proprio di ricaduta batteriologica fecero cadere un certo virus e di colpo questa cittadina e solo questa cittadina si ammalò di una malattia stranissima non so se fosse di tipo respiratorio o che cos'altro quindi ci saranno pure i buoni che a parte che non si capisce come se fossero dei buoni lavorano a delle armi batteriologiche di questo tipo ma diciamo pure che abbiano tutte le buone intenzioni di contenere nel laboratorio i loro esperimenti c'è sempre anche qualcuno che va lì prende qualcosa e va magari a vedere se funziona veramente o fa un piccolo test io rimango rimango il sostengo che ci sia molto più mala fede però va benissimo ci stanno tutte e due le ipotesi stanno tranquillamente in piedi sì sì no ma in realtà gli Stati Uniti si sono costruiti un laboratorio per fare questi test è stato nello Utah nel deserto dello Utah dove insomma dove fanno era un laboratorio messo su per sviluppare armi chimiche e batteriologiche nel 1942 quindi durante la seconda guerra mondiale e poi è stato non è stato mai chiuso in realtà e si è trasformato in un laboratorio dove si fanno test e ogni tanto nei dintorni è un'area gigantesca una gigantesca e ogni tanto nei dintorni di questo laboratorio muoiono animali pecore altre cose succedono cose strane intorno di questo laboratorio peraltro il direttore di questo laboratorio è stato messo sotto processo è stato condannato perché era pazzo e questo è successo qualche anno fa faceva faceva gli esperimenti nella sentenza c'è scritto che lui non si rendeva conto della gravità delle cose degli esperimenti che faceva là dentro quindi diciamo che hanno altro luogo dove farle queste cose adesso non mi dite i nomi sta tutto quanto nel libro io purtroppo ho questo problema di memoria che è spaventoso è il motivo per cui scrivi i libri per ricordarti tutte le cose esattamente va bene senti dove lo compriamo il tuo libro dove si può trovare? allora il libro come tutti gli altri libri non si trova da nessuna parte nel senso non si trova in liberia non si trova su Amazon e così via l'unico modo io oramai ho adottato questo metodo l'unico modo che chi è interessato a prenderlo ha per comprarlo è scrivermi un'email alla mia email personale francofracassi1 a numero chiocciolagmail.com francofracassi1 chiocciolagmail.com se volete avere il libro mi scrivete io vi risponderò vi spiegherò come fare e ovviamente essendo io quello che poi ve lo spedirà tutti i libri che verranno acquistati avranno la mia dedica anche se volete fare un regalo insomma dite a chi è destinato e farò la dedica a quella persona va bene ti auguro allora di passare giornate e tirare giù indirizzi e a fare dedica a tutti grazie mille grazie mille franco non ti chiedo quale sarà il prossimo che tu lo sparivano ogni tre mesi ma sorprendici la prossima volta con il prossimo libro va bene grazie di tutto arrivederci ciao grazie a tutti